Un'istantanea sulle abitudini degli adolescenti, degli adulti e delle dipendenze con i giovani di Croce Rossa la Spezia che questa mattina in provincia hanno presentato i risultati di una ricerca su un questionario anonimo proposto a 211 persone di età compresa tra i 13 e i 30 anni. I dati più rilevanti che ci hanno colpito sono sicuramente più del 30% del campione fa uso più o meno abituale di spinelli, quindi marijuana, cannabis e sicuramente la sostanza stupefacente più frequente che si trova più facilmente che ovviamente costa anche meno ma non per questo fa meno male. Ecco, voi fate tante iniziative di sensibilizzazione per i ragazzi e anche per le malattie sessualmente trasmissibili. È venuto fuori che molti ragazzi non sapevano di essere stati contagiati da malattie come l'epatite e l'HIV. Sì, nei mesi scorsi abbiamo fatto il progetto MIT, il progetto MIT è un progetto di Croce Rossa appunto per fare dei test anonimi. Ci sono state alcune persone che sono risultate positive all'epatite C e in uno o due casi anche dell'HIV. Ecco, qual è la fascia di età di queste persone? La fascia di età è dai 30 ai 40 anni. Nel contrasto agli abusi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione. Il Comune della Spezia ha attive diverse politiche finalizzate al contrasto di fenomeni che possono sfociare anche in situazioni pericolose. Assolutamente sì, è un'occasione, questi dei concerti per far vedere che da una parte come dai controlli che ci sono, che sono partiti da tanti mesi, si associano anche un'attività di prevenzione. Grazie appunto ai ragazzi e ai giovani della Croce Rossa che si possono insediare proprio nel contesto, nel tessuto sociale giovanile e capire quali sono i motivi del disagio. È evidente che ci vuole da una parte il controllo, quindi da una parte la repressione, con il controllo da parte delle autorità preposte, forze dell'ordine, con le forze di polizia locale. Dall'altra parte anche un'attività di prevenzione, quindi è fondamentale questo sia in un'ottica di sicurezza perché l'abuso di alcol, l'abuso di sostanze stupefacenti portano poi a quei comportamenti che sfociano, i comportamenti che ledono il decoro e sono tutti fenomeni di inciviltà di cui abbiamo tante segnalazioni. Dall'altra parte anche la tutela della salute, questo è un nostro obiettivo perché è tutelare la salute e la prevenzione dei nostri giovani con il contrasto della vendita di alcol ai minori e con il contrasto dell'abuso e dell'uso di sostanze stupefacenti.